sono tutti sopra sono i 15 i campanati lanciate una granata ora un rpg io adesso ho preso una senti guarda che lì c'è quella, guarda che lì c'è quella, guarda che lì c'è quella marco, dio marco mi stanno puntando basta la, ma no, ti ho cani la, ma no, ti ho cani la, ma marco dio i campanati no, sono morti, ma va dai figlio di puttana lancio di equipaggiamento alleato in arrivo è dura qua la storia ragazzi